cicerone che ha raccolto prove schiaccianti e numerose testimonianze a riprova delle malefatte di verre si rivolge ai giudici et vos iudices utrum is testibus non credetis an verre dam nabitis e voi giudici non crederete a questi testimoni oppure condannerete verre la domanda di cicerone è un'interrogativa diretta disgiuntiva essa è formata da due membri il secondo dei quali costituisce un'alternativa al primo in sostanza l'interrogativa disgiuntiva è quella interrogativa che esprime un'alternativa tra due termini o possibilità nel nostro caso che i giudici non credano ai testimoni oppure che condannino verre l'interrogativa disgiuntiva si può esprimere in latino in tre modi il primo è quello della vignetta la particella utrum introduce il primo membro utrum is testibus non credetis la particella an introduce il secondo an verre damnabitis nella traduzione si deve trascurare la prima utrum e rendere invece la seconda an con la disgiuntiva o oppure nella seconda modalità invece di utrum è la particella in critica ne che segnala il primo membro della disgiuntiva come nella vignetta et vos iudices is testibus non credetisne an verrem damnabitis e voi giudici non crederete a questi testimoni oppure condannerete verre an verrem damnabitis nella traduzione anche in questo caso si deve trascurare la prima particella ne e in critica e rendere la seconda an con la disgiuntiva o oppure nella terza modalità abbiamo solo la particella an che introduce il secondo membro della disgiuntiva come nella vignetta et vos iudices is testibus non credetis an verrem damnabitis e voi giudici non crederete a questi testimoni oppure condannerete verre an in questo caso va reso con la disgiuntiva oppure se l'alternativa è costituita dalla semplice negazione del primo membro questa si esprime in latino con la formula an non come nell'esempio et vos iudices is testibus credetis an non e voi o giudici crederete a questi testimoni oppure no an non si rende dunque in in questo caso in italiano con oppure no